Lavaggio dell'auto con ShineTex, protezione della vernice con effetto Repair. Ecco come funziona ShineTex con effetto Repair. La vernice della carrozzeria di un'auto nuova mostra una superficie perfettamente liscia e quindi la luce si riflette in modo ottimale. L'auto brilla. Con il tempo e l'uso quotidiano, sulla superficie della vernice dell'auto si formano microscopici incavi, graffi. Il potere riflettente della vernice si riduce e quindi anche la brillantezza. ShineTex riempie nuovamente questi incavi. Lo strato protettivo in colore ai polimeri acrilici Acrylionic si indurisce in poche ore e aderisce permanentemente alla vernice. La ripetizione delle applicazioni intensifica l'effetto di ShineTex. Ad ogni lavaggio lo strato protettivo si rinforza. La vernice dell'auto torna a brillare. ShineTex. Formula brevettata con polimeri acrilici Acrylionic. Meglio della cera. Ad ogni lavaggio rinforza lo strato protettivo. Assicura più brillantezza nel tempo. WashTex. Vera classe. Fin nei minimi dettagli.